La pista di skateboard di Via Ponchielli non è più un luogo dimenticato dagli enti cittadini preposti alla pulizia degli spazi pubblici. A metà gennaio le segnalazioni dei telespettatori di Rossini TV avevano acceso le telecamere su questo angolo alle spalle del campo da calcio di Villa San Martino. Ecco come si presentava allora, una specie di discarica a cielo aperto fra sacchi dell'immondizia sparsi ben oltre i bidoni, plastica e lattine ovunque, tracce di bivacchi, cataste di legname, pietre, bottiglie e pericolosi frammenti di vetri rotti. Ora, anche grazie al senso civico degli skaters che frequentano quest'area, le due piste da un paio di settimane sono completamente ripulite e si stanno mantenendo tali. Perché non basta ripulire, bisogna aggiungerci anche un senso civico di rispetto ambientale che a quanto pare sta facendo un salto di qualità. E invitiamo sempre i telespettatori di Rossini TV a essere sentinelle del territorio e continuare a segnalarci situazioni di degrado e in cura nella speranza che l'intervento delle nostre telecamere possa aiutare a risolverli.